Faccio una specie di introduzione all'introduzione della professoressa Armezzani e do il benvenuto a tutti i soci e a tutte le persone che vorranno ascoltare questa preziosa conferenza che il professor Ghilardi ci regala. Chiedo inoltre, ricordo a tutti che questa è la penultima conferenza e la prossima volta avremo un ultimo appuntamento, magari poi riferisco alla fine. Chiediamo anche a tutti i soci che hanno dei contributi, siamo sempre in attesa di riceverli per la rivista. Passo la parola alla professoressa Armezzani. Come al solito il mio compito è presentare il relatore, intanto lo ringrazio molto per aver accettato il nostro invito anche perché come appena dicevamo il professor Ghilardi è pieno di impegni e ci ha dedicato un po' di tempo che poteva invece utilizzare per il riposo e sono molto contenta anche perché il titolo è interessantissimo per noi di questa associazione. Vi dico alcune parole su di lui, è professore di estetica all'Università di Padova dove insegna anche filosofia dell'interculturalità. È un profondo conoscitore delle culture dell'estremo Oriente e ha svolto la sua formazione non solo in Italia ma anche in atenei cinesi e giapponesi come Pechino, Hong Kong e Kyoto. Ha tenuto conferenze in molte università e istituzioni italiane e straniere, tra cui Berlino, Hong Kong, Barcellona, Parigi. Ha tradotto e curato volumi di autori importanti, Cassirer, Julien, che conoscete sicuramente molti di voi, Merrot-Ponty, Nishida Chitaro e François Cheng. Tra i tanti volumi che ha curato, mi fa piacere segnalarvi quello in onore di Adone Brandalise, che abbiamo avuto la fortuna di avere tra i nostri relatori precedentemente, che si chiama La necessità dell'altro, in cui peraltro c'è anche un contributo di Simone Bagallo, che è uno dei nostri soci. Questo l'ho detto un po' pro-domano nostra. Questo orizzonte di conoscenze ampissimo, di conoscenze e di riflessione, non è soltanto un bagaglio culturale notevole, ma diventa l'occasione per rimettere in movimento il pensiero, sfidando quegli assunti impliciti, quelle premesse nascoste, da cui siamo soliti vedere il mondo e pensare noi stessi. Quindi la riflessione, lo studio di Ghilardi ci mostra come l'umano possa essere vissuto e affrontato in modi molto diversi, che non vanno messi in opposizione gli uni agli altri, ma che si implicano reciprocamente e che invitano a una interrogazione continua, a continui slittamenti di senso, a modificazioni continue, creando dei campi di tensione che vanno mantenuti tali, senza appunto volerli risolverli, secondo la nostra solita tentazione di risolvere le opposizioni. In questa direzione di pensiero ha pubblicato moltissimi contributi in volumi, in riviste nazionali e internazionali, ha scritto molte monografie, lui dice che non devo leggere tutti i titoli, ne leggerò alcuni a partire dai più recenti libri che ha scritto, perché sono convinta che i temi a cui alludono questi titoli siano di grande interesse per molti dei presenti, per alcuni sono sicura. Quindi i titoli, a partire da quelli più recenti, sono l'idea di natura tra oriente e occidente, filosofia delle arti marziali, forme dell'estetica e modelli di razionalità nella tradizione cinese, la filosofia giapponese, l'estetica giapponese moderna, il vuoto, le forme, l'altro, tra oriente e occidente. Nella distanza della luce, che mi sembra sia un libro d'arte. Sì, è una specie di catalogo di miei dipinti. Sì, e poi ancora invece in ambito filosofico, filosofia dell'interculturalità, il visibile differente, sguardo e relazione in Derrida, bellissimo libro che ho letto, arte e pensiero in Giappone, corpo, immagine, gesto, la filosofia nei manga, estetica e immaginario del Giappone contemporaneo, una logica del vedere, estetica ed etica nel pensiero di Nishida Kitaro, e ancora giochi di ruolo, estetica e immaginario di un nuovo scenario giovanile, l'enigma e lo specchio, il problema del volto nell'arte contemporanea, e infine, mi fermo qua, cuore e acciaio, estetica dell'animazione giapponese. Come vedete, sono tantissimi e sono sicura che qualcuno avrà preso nota di qualche titolo. Il titolo della conferenza di oggi, oltre il soggetto, sguardo fenomenologico e trasformazione della psiche, si muove, mi sembra, in un territorio che è nostro. Parlo delle persone presenti e quindi ringrazio molto anche di aver scelto questo tema. Grazie. Ringrazio io per questa presentazione, per questa accoglienza anche così calda e generosa. Gli ultimi titoli risalgono a vent'anni fa, per cui mi fanno rendere conto quanto tempo è passato da quando muovevo i primi passi nella scrittura filosofica e quando appunto ero, lo sono tuttora, allievo di Adone Brandalise, quindi voi lo conoscete già e forse qualcosa che dirò oggi risuonerà anche alle vostre orecchie come prossimo a questioni che lo stesso professor Brandalise avrà sollevato. Io provo ad addentrarmi in questo terreno che non è il mio terreno di elezione principale. Mi interessa e da un po' di tempo me ne occupo. Anche prima, poco fa, parlavamo di alcuni miei contatti con colleghe, colleghi psicologi e io sicuramente ho in parte ereditato, ho appreso molto dalla tradizione fenomenologica della filosofia che è effettivamente una tradizione che anche si è volentieri intrecciata, interloquito con alcune tradizioni della psicologia e della psichiatria novecentesche. Però sicuramente il taglio che vorrei dare questa sera è un taglio di tipo filosofico e credo che sia appunto anche proprio interessante questo vostro lavoro interdisciplinare, questo scavalcare fossati e superare le palizzate che purtroppo spesso l'Accademia invece mantiene e rete per questioni appunto di settori scientifico disciplinari. Già dal titolo tocco, evoco delle questioni, dei plessi tematici che sono talmente ampi, talmente densi, ciascuno dei quali richiederebbe una storia a sé, soggetto, tema dello sguardo, tema della fenomenologia, della psiche. Io provo a fare una specie di attraversamento, ho dato questo titolo e volentieri provo a costruire un percorso sapendo che qualcosa resterà fuori, magari lo si può poi recuperare con le vostre domande, con la parte di discussione. Come spesso fanno i filosofi faccio una sorta di premessa metodologica o metacognitiva, una sorta di nota, di glossa che metto ad incipit, perché mi interessa molto e in realtà come accade talvolta le note metodologiche sono già un modo per entrare in media stress, credo che sia fondamentale sempre prestare attenzione alle pratiche di discorso che noi agiamo e dalle quali in parte siamo sempre anche agiti, cioè le formazioni discorsive che stiamo mettendo in atto quando appunto parliamo di soggetto, parliamo di trasformazione, parliamo di psiche. Siamo sempre all'interno di sistemi di relazioni, ereditiamo una tradizione, facciamo riferimento implicitamente o esplicitamente ad alcuni nuclei tematici che abbiamo scelto anche consapevolmente di evocare o che magari invece inconsapevolmente tracciano dei percorsi che poi noi seguiamo come studiosi, come filosofi, come psicologi. Questo per dire che ogni oggetto del pensiero, ogni modo di vedere, ogni modo di pensare sono già per certi versi il prodotto di una serie di prassi, di prassi discorsive e non discorsive, di pratiche di parole, di scrittura, di intrecci, di vita, di esperienze che sono sempre in qualche misura più originarie del nostro tentativo di metterle in linea di conto. La mossa di Descartes che cerca di dubitare di tutto è una mossa che è potentissima ma oserei dire non mette in conto il fatto di stare pensando in francese o in latino, di essere erede di una cultura che gli ha, come dire, depositato in mano la nozione di soggetto, la nozione di cogito. Questo non per sminuire, noi, come dire, siamo sempre nella contingenza. Nessuno, neanche Platone, neanche i più grandi e le più grandi pensateci possono pensare di vedere il mondo da fuori, di scavalcare la propria ombra, di essere indipendenti da una tradizione che li ha costituiti. Possiamo però cercare di essere consapevoli di questo e non di rimuovere o di forcludere la tradizione e la serie di prassi che ci hanno determinato, che ci hanno portato fin qua. Se vogliamo anche molto banalmente il fatto di essere qua davanti a un schermo raccolti, toccati da qualcosa che oggi ci fa stare insieme a discutere di alcune questioni. Già questo è un setting di un certo tipo, già questo significa che noi convochiamo e convogliamo in questo momento una serie di pratiche. Anche le teorie scientifiche più apparentemente neutrali e ascettiche sono il frutto di forme di prassi sociale. Allora, fatta questa premessa, cosa cerco di evocare quando parlo di sguardo fenomenologico che si relaziona con una pratica di tipo psicologico? Direi, cercando di essere molto sintetico, lo sguardo fenomenologico è un tentativo, è quello sguardo che tenta di lasciarsi alle spalle l'idea di psiche come qualcosa che sta dentro in contraposizione a qualcosa che sta fuori. Ho detto in altri termini, è un tentativo di non cadere in una sorta di trappola comoda per certi versi, anche produttiva, anche feconda. Non dico che sia sbagliata, ma per certi versi può essere limitante che appunto pensa alla relazione tra io e mondo, o tra sé e altro, come un rapporto tra due oggetti autoconsistenti, già fatti e finiti, prima di entrare in relazione. Quello che un sguardo fenomenologico cerca di fare è invece mostrare che la relazione è originaria tanto quanto ciò che mette in relazione, che esiste quella che Merleau-Ponty chiamerebbe una co-istituzione di sé e altro, di mente e mondo. Chiaramente questo tipo di sguardo va un po' conto, è un po', come dire, l'antagonismo con un'altra modalità, diciamo, fisiologica o di una psicologia che è quasi più forse una psicofisica, che vuole fare riferimento al procedimento astrattivo delle scienze naturali, che si muove essenzialmente tra due grandi ipotesi, talvolta accomunandole, talvolta distinguendole o schiacciandole una sull'altra, ma che sono da un lato il dualismo, diciamo cartesiano, ma non perché, insomma, il povero Descartes abbia sempre la colpa di tutto, ma perché res cogitans e res extensa come due sostanze distinte, poi di fatto danno luogo appunto ad un modus operandi, un modus cogitandi, che forse appunto va anche oltre quello che lo stesso Descartes pensava, così come bisogna distinguere e difendere talvolta Platone dal platonismo, Cristo dal cristianesimo, anche Cartesio dal cartesianesimo talvolta bisogna distinguere. Ecco, il dualismo cartesiano da un lato e il riduzionismo dall'altro, un riduzionismo materialistico quantitativo, che fondamentalmente è come se ampliasse un'ontologia regionale, quella che studia in un certo modo la materia, che studia la natura materiale e la allargassero, facendo diventare un'ontologia fondamentale. Tutto è studiabile, tutto è interpretabile secondo la prassi quantitativa, misurativa. Con un sguardo fenomenologico, dicevo, si colloca in un'altra posizione, adesso non voglio neanche contrapporre, parlare di antagonismi subito mettendo in campo delle forme di opposizione, ma sicuramente si smarca da questo tipo di paradigma, che appunto in realtà è un paradigma che potremmo definire quasi metafisico, quello appunto che contrappone materia, mondo da una parte, mente, spirito dall'altra, come se fossero oggetti contrapposti. Perché lo sguardo fenomenologico, diciamo, sostiene che così facendo si perde di vista esattamente ciò che si vorrebbe in qualche modo comprendere o tentare di comprendere, il soggetto, poi il tema, il tentativo di mettere a fuoco qualcosa, secondo questo tipo di paradigma, riduzionista o dualista, esclude, annichilisce, annulla esattamente ciò di cui si vorrebbe rendere conto. Trasformando il soggetto in oggetto, si pensa di catturarlo in maniera più chiara e in realtà lo si annulla. È un meccanismo che succede anche, e qua c'è già una eredità brandalisiana, quando proviamo a intenderci, a capire, a assimilare l'altro. Capisco l'altro, lo riduco all'oggetto di un mio pensiero, penso di avere finalmente inteso chi è, che cosa vuol dire, così facendo finisco per ucciderne l'alterità. Ciò non significa che allora devo bearmi di una sorta di nebulosità inconsistente, per cui l'altro deve restare nella sua alterità, il soggetto rimane inconoscibile perché non lo posso controllare, manipolare, calcolare. Si tratta allora di mettere in campo un altro tipo di discorso, sapendo che, questa è anche poi la cosa difficile, direi difficile anche eticamente, oltre che teoreticamente, sapendo che di nuovo un discorso di tipo fenomenologico, un discorso di tipo psicologico, è a sua volta un discorso performativo, che produce effetti. E c'è sempre il rischio di crearsi l'oggetto che si vuole in realtà studiare. c'è sempre il rischio di pensare, di vedere le cose così come sono e in realtà è esattamente la mia pratica di parola che produce ciò che io sto cercando. Ora, è chiaro che non possiamo mai uscire dal mondo per poter produrre delle proposizioni che parlano del mondo. Le nostre sono sempre pratiche situate. Non esiste una possibilità per noi umani di astrarci dal mondo. Ovviamente il mondo non è il pianeta Terra, è l'universo, è l'esistente. Ogni proposizione, ogni frase, ogni visione che si porta sul mondo è sempre una visione, una proposizione che ne fa parte e che quindi in qualche misura ne dipende. Ma è anche una proposizione, potremmo dire, attraverso la quale il mondo si vede, vede se stesso e quindi si trasforma e quindi si modifica. Allora, con questo tipo di consapevolezza, la performatività dei nostri discorsi, il tipo di prassi che innescano le nostre categorie, non sarà più, almeno non totalmente ingenua, suppostamente neutra, ma saprà di dover scontare sempre un'appartenenza ad un contesto, ad una particolare incarnazione dell'umano, che chiamiamo filosofia, fenomenologia, pur nell'ambizione, nella speranza e nel desiderio di vedere le cose non proiettando troppo un certo tipo di aspirazioni, di vissuti, come dire, non proiettando ciò che abbiamo già deciso in altro modo, indipendentemente dalle tentative argomentativi, da un certo tipo di osservazione, da un farci prossimi al soggetto che vorremmo in qualche modo comprendere. Quindi questo significa anche che uno sguardo fenomenologico si traduce in un modo di esistenza, mette alla luce che ama lo scoperto dei modi di esistenza. Non se ne scappa, per così dire. Non si può illudersi di vivere in un certo modo e fare un altro tipo di discorsi, ma qui c'è una continuità e un intreccio tra stile di vita e modo di pensiero. Dal momento anche che se non intendiamo la mente come una cosa, una res che sta in una scatola che chiamiamo testa o come semplicemente una serie di stimoli elettrochimici che possiamo misurare, ma la intendiamo come un'apertura verso ciò che è trascendente ad essa, una sorta di capacità di esperire ogni stimolo come manifestazione di senso. Questo è anche tipico dello sguardo fenomenologico e che distingue l'attenzione filosofica, psicologica introntata alla fenomenologia da una semplice forma di comportamentismo o appunto di riduzionismo, per cui la mente in fondo funziona come un termostato. C'è uno stimolo, abbassamento della temperatura, il termostato si attiva. C'è un altro stimolo, la temperatura è raggiunta, il termostato si spegne. Certe forme di descrizione della mente contemporanea, moderna e contemporanea, non distinguono a un certo punto più tra la soggettività umana e una serie di meccanismi, perché appunto intendono lo stimolo indipendentemente dalla manifestazione di un senso che per il soggetto umano invece è sempre presente, anche quando c'è, se vogliamo, uno stimolo tipo allucinatorio. Anche lì è in atto un tentativo di costruzione di senso che può essere decoincidente rispetto alla norma statistica, che può essere doloroso, che può essere inibente rispetto a un certo tipo di relazione con l'alterità, ma anche lì c'è tentativo di mettere in forma una serie di stimoli e di costruire un certo tipo di sensi. Una piccola nota a margine, ma ritornerà penso più volte perché non riesco a non pensare sempre anche convocando elementi extra-occidentali. Il modo in cui in giapponese si dice umanità, genere umano, gli esseri umani, è un binomio ningen, in cui il primo carattere nin è essere umano. Si può pronunciare anche hito, ma vuol dire appunto persona, essere umano. Il secondo, gen, si pronuncia anche aida o ma, alla lettera è una preposizione, significa tra, è il fra mezzo, ciò che sta. Ma già dire ciò che, come dire, sostantivizza qualcosa che non è un sostantivo. Ningen è tra gli esseri umani. Tra gli esseri umani accade qualcosa e fa sì che gli esseri umani diventino tali proprio perché c'è un tra che li unisce e li distingue. proprio perché c'è una produzione di senso che non cade, potremmo dire, sotto le regole dell'ontologia classica. Qualcosa che è, qualcosa che sta, qualcosa che rimane nell'iperuraneo, ma è qualcosa che continuamente accade, si produce. Io dico anche talvolta e viene, nel senso che viene fuori, ha il carattere di evento, di evenemenzialità. Questo evenire del tra degli esseri umani, dell'umanità come Ningen, appunto evoco questa parola giapponese perché mi pare fornire una chiave interessante di lettura. Tante volte c'è una saggezza delle parole motivo per cui spesso anche si va a pescare dal greco, dal latino o da altre lingue delle risorse di senso che possono arricchire la nostra significazione. Guardiamo da italiani, parlando in italiano, il genere umano, gli esseri umani, l'umanità anche attingendo, potendo attingere alle risorse di un'altra lingua che ci fa pensare in questi termini. Non ci sono due singolarità, due soggetti fatti e finiti che poi entrano in relazione ma quando c'è umanità, quando c'è esperienza dell'umano, quando c'è soggetto umano c'è sempre già un tra che si intrama e chiaramente poi c'è la figura del terzo e poi l'estensione. questo tra implica quindi una decoincidenza. Io sono io perché c'è sempre un tu o c'è sempre un altro che permette a me di essere me stesso e questo io o questo se è un se diffratto, è una psiche, appunto usavo questo termine e poi lo proverò anche a complicare per indicare l'unità autocosciente che ci contraddistingue come soggetti che però e questa è se vogliamo un po' la sfida il tema di cui appunto vorrei porare adesso a toccare alcune corde è costantemente chiamata a eccedersi, è in costante rapporto con un oltrepassamento. L'essere umano e il soggetto umano è un soggetto che avverte un'impellente dimensione di eccedenza che lo attraversa. Non si basta mai alla vita, è troppo, c'è qualcosa di troppo, c'è qualcosa che ogni tanto o ci lascia in una dimensione di contemplazione statica o ci atterrisce o ci commuove e non è che si viva sempre chiaramente con questo tipo di stimoli di modalità di tensione emotiva ma ci sono dei momenti e quei momenti sono i momenti in cui effettivamente anche noi sentiamo o l'estasi che ci fa dire vale la pena vivere anche se non so come cerco di avere a che fare con questa vita che mi sembra sfuggire da tutte le parti eppure voglio averci a che fare o talvolta invece è quello che in cuore di orrore quando si va Kurz va nel cuore dell'Africa subsahariana risalendo il fiume Congo e incontra anzi Marlo e incontra il colonnello Kurz e appunto lì questo misterioso personaggio che sembra essere arrivato a toccare con mano questo cuore di tenebra appunto dice c'è qualcosa di orrorifico che non si può descrivere in altro modo allora il soggetto umano ha a che fare con queste dimensioni anche se molto spesso tende appunto a rimuoverle a forcluderle a abbassare la soglia della percezione il divertissement pascaliano il divertimento che è un diverter uno spostare oppure i sedativi della vita che tutti prima o poi in qualche modo cercano di usare dalla serie televisiva che sono anche cose umane necessarie nessuno può vivere a contatto come dire continuo con l'incandescenza del reale ma questo sguardo fenomenologico che poi diventa appunto uno sguardo che va oltre forse la stessa impresa fenomenologica incontra un'esperienza di tipo forse mistico di tipo unitivo è uno sguardo che può forse permetterci almeno temporaneamente di reggere lo sguardo su questo abisso su questa abissalità che attraversa la psiche e che la fessura internamente è una sbagliatura la psicoanalisi ci ha insegnato appunto che non possiamo pensare di essere totalmente conchiusi ripiegati perfetti nel senso di un perficere che porta a compimento senza decoincidere anzi l'esistenza umana esistere è anche proprio uscire fuori da questa ipotesi di pienezza se mai c'è stata se vogliamo la grande verità del mito della genesi biblica l'uscita dal paradiso terrestre è l'inizio dell'esistenza dell'esistenza e quella pienezza che forse abbiamo esperito nell'utero materno forse una sorta di nostalgia per un assoluto che nel momento stesso in cui lo pensiamo lo pensiamo come perduto il soggetto non può che pensarsi come uscito da un assoluto un paradiso una pienezza che appunto sono alle nostre spalle e si tratta allora di avere a che fare con con questo tipo di di questione essendo stando nel mondo essere nel mondo è una locuzione heideggeriana che poi viene ripresa da Binswanger viene ripresa anche appunto da Merleau-Ponty da Sartre nella fenomenologia francese questo essere nel mondo di nuovo la fenomenologia non lo vede come un contenuto all'interno di un contenitore io soggetto sono in uno spazio in cui abito ma io abito lo spazio abito il mondo essere nel mondo essere al mondo i francesi dicono être au monde spesso per tradurre l'interwelt design di Heidegger è un fenomeno che precede la distinzione soggetto-oggetto o la distinzione io-mondo così come corpo e mente io e mondo sono co-originari e sono a loro volta come la nozione di mondo psichico o di mondo naturale sono costrutti di senso qua la questione problematica è riuscire ad abitare una circolarità in cui non c'è un'assoluta precedenza o preminenza dell'elemento linguistico fenomeno logico rispetto all'elemento fenomenico del finestre dell'apparire c'è un linguaggio che si dispone a nominare degli incontri di mondo ma noi incontriamo il mondo iniziamo a incontrare la fame il sonno il freddo la mamma il seno la mano il piede perché c'è un linguaggio che inizia a nominare queste cose c'è una circolarità virtuosa io lo definisco un implesso non un complesso perché il cum plexus è una serie di pieghe che si strutturano una sull'altra l'implexus è una sorta di intreccio inestricabile la dimensione del linguaggio la dimensione della percezione cooperano a formare progressivamente il soggetto e non c'è mai un momento specifico in cui noi possiamo dire ecco qui inizia il soggetto parlante qui iniziamo ad avere un mondo e non soltanto ad essere mondo ad essere in continuità col mondo e con i nostri stimoli e con i nostri istinti e con i nostri bisogni ecco perché questo tipo di consapevolezza come dicevo io prima si converte in una prassi e la comprensione teoretica fondamentalmente diventa una forma di etica non c'è una risposta non c'è una una frase talmente potente da poter esaurire da poter dire la verità del tutto dobbiamo saper transitare nelle nostre frasi nelle nostre frasi discorsive dobbiamo saperle abitare sapendo che sono come dire dei trampolini sono degli stimoli per agire in un certo modo per orientare lo sguardo appunto per convertire lo sguardo in un certo modo evitando due grandi rischi che sono presenti anche appunto nello sguardo fenomenologico nella postura filosofica anche spesso la più consapevole uno direi quello di pensare secondo i termini o le aspettative di una verità assoluta questo è il modo giusto di vedere questa è la nozione di soggetto definitiva o c'è una spiegazione vera o c'è una spiegazione falsa e l'altro rischio è pensare che ci si possa affidare alla scienza come all'unica prassi davvero esplicativa quando io quantifico quando io misuro allora ho compreso mentre appunto noi da un lato non possiamo vivere senza interpretare continuamente il senso della verità cioè soggettivarlo cioè costruire un senso di quella verità perché è una verità che non sia sensata che non faccia senso per il soggetto allora non so di che tipo di verità si tratti e d'altra parte noi siamo nella verità e la promuoviamo anche al di là del pensiero questa è una cosa che i filosofi spesso tentennano non amano ma io lo dico così in modo anche un po' provocatorio me stesso il pensiero si dà attraverso parole e frasi certo è questo il materiale della filosofia ma forse parole e frasi hanno anche un potere che spesso non viene considerato che è il potere di portare al di là del pensiero non di morirci dentro ma allora qui certo dovremmo intenderci che cosa vuol dire pensiero se pensiero è solo ciò che si struttura attraverso segni allora certo c'è un pensiero linguistico c'è un pensiero musicale c'è un pensiero matematico attraverso le funzioni o se invece pensiero come dire vede espandersi la propria estensione e come concetto diventa anche appunto la prassi esistenziale però allora forse diventa un po' eccessivo definire così pensiero quando dico che il pensiero si struttura in parole e frasi ma che parole e frasi possono portare oltre il pensiero indico esattamente una risposta etica e non più solo teoretica una risposta nella prassi non posso allora ecco che anche la relazione con l'altro si trasforma non ti capisco non ti posso ridurre a concetti ma posso vivere insieme a te posso compiere un tratto di strada con te posso trovare insieme a te dei modi per stare in questa vita che ti sfugge che ci sfugge che non è mai possesso perché non è un oggetto la vita come non è un oggetto la verità ecco perché è impossedibile perché è sempre oltre ogni fantasia di possesso ogni volta che si pensa che sia là è già suggita si è già delocalizzata dislocata ecco già quindi delle implicazioni etiche per questa idea di sguardo fenomenologico rispetto alla psiche rispetto all'interiorità del soggetto e la sua relazione con un'esteriorità prendendo quindi interiorità ed esteriorità sempre come modelli ermeneutici più che non come categorie statiche così come quando parliamo di oriente occidente ci intendiamo ma sappiamo che non esiste l'oriente ci sono anche all'interno pensiero cinese tante molteplici strutture forme di pensiero scuole la relazione con l'alterità la trasformazione nella psiche implica se vogliamo il fatto che noi ci abbiamo ci possiamo pensare sempre nella necessaria distanza dall'altro e di noi da noi questo senso dicevo prima siamo fessurati non coincidiamo mai la coincidenza assoluta sarebbe la morte quando si muore si coincide totalmente la vita invece è decoincidenza smagnatura sfasatura non essere mai a fuoco ma anche qua non dobbiamo intendere questo come una iattura una diminuzio rispetto ad una presunzione di pienezza io credo dobbiamo partire da qui per pensare l'esperienza della soggettività umana non è come dire un depotenziamento rispetto ad una pienezza vagheggiata che dobbiamo cercare di ricostituire è piuttosto l'imparare a fare qualcosa di questo nostro essere sempre un po' fuori fuoco qua adesso riprendo l'esempio del termostato mi viene in mente ma in un senso positivo perché perché anche i termostati perfine i termostati per funzionare bene devono essere imprecisi perché un termostato perfettamente preciso impazzerebbe si distruggerebbe nel giro di poco immaginate di regolarlo sui 20 gradi a 20,0001 gradi si spegne a 19,9999 si accende ma chiaramente una variazione di un decimillesimo di grado è immediata quindi si accenderebbe si spegnerebbe continuamente ci vuole una certa imprecisione perché un meccanismo cibernetico possa funzionare bene c'è una tolleranza si attiva a 19 gradi e mezzo si spegne a 20 gradi e mezzo poniamo allora faccio questo esempio perché appunto prima l'ho usato in senso negativo ma per dire perfino un termometro un termostato deve poter funzionare basandosi sull'imperfezione a maggior ragione un soggetto umano quindi quella che poteva sembrare una sciagura una iattura il fatto di essere fuori fuoco imprecisi di fraintenderci sempre può essere invece rovesciata come la possibilità adesso qui magari un evoluzionista ci direbbe vedete l'evoluzione che si è data questa possibilità per far funzionare bene la specie umana non lo so forse è così ma la cosa che a me pare interessante è questa necessità di saper abitare questa distanza questo igliato è un po' come il pilota che sa navigare assecondando la corrente penso a un navigatore uno che pagaia con il kayak che scende la corrente di un fiume e che un po' la domina un po' sa dirigere dove vuole la barca ma al tempo stesso deve sapere assecondare la corrente per non rimanere travolto e quel tipo di sapere è un sapere che non può essere modellizzato pianificato perché quella corrente che pure è la corrente dello stesso fiume che scorre da secoli non è mai uguale perché c'è una diversa umidità nell'aria c'è una diversa o del suo tipo di vento perché ha piovuto il giorno primo si sono sciolte le nevi e quindi di volta in volta il tracciato è lo stesso ed è diverso funcro dell'esperienza individuale è proprio questo unità e differenza differenza nella permanenza unità nella transitività della transitorietà dell'io nel tempo il novecento è il secolo in cui come dire il soggetto è stato sottoposto ad ogni genere di decentramento da quelli più tragici storico politici a quelli anche delle avventure del pensiero della psicoanalisi della psicologia della filosofia dell'arte della poesia dell'antropologia e ma che cosa ha anche assegnato di importante e di interessante questo passaggio epocale di cui ancora siamo come dire parte probabilmente o che stiamo cercando un po' di capire per provare a cogliere delle linee delle direzioni verso cui muoverci la grande trasformazione è stata quella rispetto ad un'idea di soggetto moderno e soggetto individuale costruito intorno a una serie di fulcri di assi della conoscenza della volontà dell'attribuzione di un diritto individuale quindi di nuovo sono sempre cose ottime produttive euristicamente feconde non dobbiamo vedere le contrapposizioni sempre come come dire una lotta tra un buono e un cattivo ci sono state ottime formazioni di senso e prassi a partire da questa idea di soggetto ma l'idea di un io come funzione sintetica se vogliamo da Kant e da Cartesio appunto in poi almeno si trova questa visione la coscienza come compimento dell'evoluzione della vita sulla scuola di un'idea di progresso di sviluppo indefiniti il novecento ci ha mano a mano insegnato a pensarci al di fuori della prosecuzione di questa sorta di quadratura del cerchio in cui l'io può consistere c'è un principio egemonico l'avrebbe chiamato Aristotele o Platone che domina la scena che mette le cose a posto che tiene imbrigliati il cavallo bianco e il cavallo nero della biga descritta nel federo da Platone ma l'idea è che appunto non dobbiamo più forse preoccuparci di inseguire di cercare o di fondare la nostra perfezio la perfezione non nel senso di compimento ma di datità del nostro essere qui ed ora in una sorta di conoscenza obiettivante non è questo direi il compito del soggetto contemporaneo ciò a cui siamo consegnati quando appunto si tratta di trasformare la psiche si tratta di pensare anche la psiche al riparo di ogni velleità di ogni speranza di ogni proiezione che la pensa come alcunché di consistente di autonomo di autarchico psiche diventa forse di nuovo ritorna ad essere un movimento non una cosa non solo una funzione è anche una funzione ma il movimento lo psichein come nel greco arcaico di omero un soffio un respiro un movimento di apertura che si scopre qui uso consapevolmente dei termini anche come dire di sapore più teologico religioso si scopre salva si scopre redenta potremmo dire scopre di poter attribuire un senso alle cose scopre di non disperdersi di non frammentarsi di non essere disseminate in senso dissipativo proprio oltrepassando le fantasie di salvezza proprio oltrepassando qualunque tipo di fissazione su appunto quello che di fatto riscrive di essere un idolo una forma di idolatria anche qua cito un un orientale secondo il mito secondo la leggenda il monaco indiano Bodhidharma ventottesimo patriarca del buddismo indiano va in oriente si reca dall'imperatore cinese cerca di contribuire al diffondersi del messaggio buddista e quando l'imperatore gli chiede ma in fondo qual è il fulcro del tuo insegnamento che cosa mi stai raccontando e Bodhidharma dice quattro caratteri cinese un grande vuoto nulla di sacro sembra esattamente l'opposto di quello che ci si aspetterebbe una pienezza che invece mostra là dove è il sacro e l'unità possibile con esso qui c'è un'emancipazione dall'idea di una salvezza di una soteriologia di una identità compiuta qui c'è una trasformazione appunto della psiche in cinese e in giapponese mente psiche in giapponese psicologia si dice shin rigaku la disciplina dei principi della coerenza della struttura dello shin del mente però anche cuore e anche intelletto e anche intimità interiorità in giapponese si pronuncia anche kokoro è questo nucleo essenziale che però non è disgiunto dal cuore anche di carne dal muscolo carviaco dal nostro essere corpo corporeità e qua c'è di nuovo ancora la fenomenologia che non disgiunge corpo e mente pensate anche qui quanto uno è erede del linguaggio che parla noi dobbiamo scrivere corpo e mente i neurologi i neurofisiologi si si spaccano la testa sul body mind theory body mind problem in cinese e in giapponese quando io scrivo shinjin cuore mente interiorità intelletto e corpo corporeità fisicità matericità leggo un endia di endia duo uno tramite due due aspetti di un intero di un'unità allora in questo senso la trasformazione della psiche che è un certo tipo di sguardo che a questo punto forse non è più solo fenomenologico è anche interculturale e anche uno sguardo interdisciplinare ci può suggerire è quello che non dobbiamo più pensare una psiche altra separata da un'esteriorità corporea non dobbiamo più pensare una mente come un fatto conchiuso forse riuscibile al cervello forse no non dobbiamo più pensare un soggetto come se fosse garantito da un sogno umanistico di un io conchiuso e quindi forse dobbiamo anche uscire da un'idea di finalità per sposare una gratuità dell'essere una assoluta libertà che appunto non vuol dire poi fare le cose a casaccio ognuno fa perché questo vorrebbe dire ancora pensare secondo i modelli di un io che vuole fare le cose a casaccio ma la libertà la gratuità sono la capacità di essere in comunione con l'accadere del mondo vuol dire riuscire a sentire la propria identità come viva vitale nella misura in cui è appunto attraversata dall'alterità in cui è anche aperta e non barricata non con con chiusa un altro monaco giapponese un maestro zen del 200 diceva quando gli chiedevano che cos'è il buddismo diceva prendere il buddismo è apprendere se stessi ma apprendere se stessi è dimenticare se stessi dimenticare se stessi è essere risvegliati alla realtà e risvegliarsi alla realtà vuol dire lasciare cadere il proprio sinjin corpo-mente proprio noi potremmo dire complesso psicosomatico per usare appunto due parole greche che uniscono psiche e soma lasciar cadere non mortificare non gettare via sprezzantemente non abbandonare ma lasciare che accada adesso qui glosso io un po' usando l'italiano lasciar cadere vuol dire anche lasciare metamorfizzare lasciar trasformare il proprio corpo-mente lasciare che accada ascoltandolo sapendo che ci sono momenti in cui ha bisogno di un certo tipo di cure momenti in cui invece il respiro è come il rugito di un leone con questo tipo di consapevolezza allora potremmo dire il primo vagito di quando nasciamo il grande respiro dei nostri 20 anni quando abbiamo fatto una camminata in montagna sarà un perfetto respiro da seguire come l'ultimo respiro che esaleremo sul letto di morte allora ci sarà trasformazione nella psiche che non vuol dire una trasformazione ad optimum non è che saremo dei super eroi degli esseri umani ma saremo degli esseri umani realizzati è ancora più raro che trovare un grande filosofo un grande artista forse trovare un essere umano realizzato e felice ma la realizzazione vuol dire appunto che io realizzo rendo reale qualcosa partecipo all'accadere del mondo condivido le sorti del mondo nella mia dimensione di momentanea apparizione momentanea non vuol dire che non conta nulla ininfluente vuol dire che si partecipa per un po' del gioco dell'esistere si contribuisce come dice Walt Whitman ripreso da Robin Williams in L'attimo fuggente ascolta la grande poesia del mondo tu con quale verso contribuirai allora il corpo-mente che cade che accade e che viene lasciato cadere appunto non è il corpo-mente mortificato asceticamente non è il corpo-mente negletto è quello che avviene si lascia avvenire in questo modo dal distacco si può ritornare ad una comunione paradossalmente devo sapermi distaccare cioè non devo aggrapparmi a nessun significato particolare devo lasciare scorrere la verità è un transito è qualcosa che passa è qualcosa che si dà è qualcosa che accade qui tutte le grandi tradizioni filosofico e religiose hanno detto qualcosa di simile di analogo non di identico ma hanno fatto riferimento piuttosto al movimento di un passaggio che non ad una stasi congelata e fossilizzata allora si può diventare capaci di apertura al possibile allora si diventa disponibili disponibilità vuol dire la capacità di essere in grado di captare i impossibili senza essere più inclusivi e meno esclusivi includere nel mondo nel mondo della argomentazione filosofica cinese non c'è una contrapposizione di vero contro falso ma piuttosto di parziale e globale per cui il saggio cinese non dirà mai io argomento bene meglio di te quindi io ti confuto la tua è una posizione falsa piuttosto la tua è una posizione che mi sembra parziale io cerco di assumere una posizione globale di contenere comprendere più realtà possibile e come lo faccio lo faccio non solo attraverso il fronteggiamento diretto di argomentazioni di forme di agone dialettico retorico ma attraverso anche una capacità allusiva una capacità metaforica ma dire c'è un valore anche positivo dell'ambiguità se volete anche qui Freud ha insegnato molto nel saper leggere l'ambiguità dei segni talvolta a vuol dire a talvolta vuol dire qualcos'altro e devo sapere contestualmente di volta in volta questa è anche la cosa che spesso sfugge alla filosofia e che invece in una pratica in una prassi diciamo clinica in una prassi analitica ci può essere la capacità della contingenza dell'ascolto della contestualità una verità è vera per te in quel momento un esempio che io faccio molto banale ma per dire la verità relazionale che non è la verità astrata se uno mi dice da che parte devo andare per andare a Roma io dico dipende perché se sei a nord devi andare a sud se sei a sud devi andare verso nord esempio banalissimo per dire che però una stessa domanda richiede una risposta diversa quella è la soggettivazione io devo guardare in faccia chi mi fa la domanda per dire la risposta che in quel momento lo aiuta a muoversi ecco la trasformazione ecco il movimento ecco il passaggio anche qui evoco il pensiero cinese il pensiero giapponese perché all'interno di quei contesti tendenzialmente non si pensa all'esistenza di un male di un negativo assoluto il negativo è il blocco la stasi l'incapacità di relazione nello yin e nello yang è chiarissimo l'equilibrio che non vuol dire che si sta sempre bene che si è sempre sani che si vive eternamente ma l'equilibrio dinamico che permette ad una parabola vitale di entrare e uscire se vogliamo dalla propria individualità restando sempre all'interno del Tao anche con il morire anche con la morte questo equilibrio è dato la possibilità di mantenersi evolutivi l'evoluzione non nel senso darwiniano ma nel senso il movimento degli uccelli che fanno le loro evoluzioni in cielo questa capacità di disponibilità a secondo le correnti so sfruttare come surfista l'onda o il vento come il deltaplano e riesco a non irrigidirmi a non fissarmi su un'identità una maschera una professione per poter continuare a muovermi a respirare la respirazione è la grande metafora nella trasformazione del sé nel mondo sino giapponese perché è qualcosa che persistendo muta o mutando rimane gonfio sgonfio c'è anche un frammento bellissimo di Albert Camus mi pare nell'estate un suo racconto breve dice il fiume passa il mare passa e rimane così io voglio amare come il mare che mutando continuamente nel suo sciabordio va e viene muta ma al tempo stesso permane quindi per rendere dinamico in evoluzione il processo che noi siamo dobbiamo imparare ad ascoltare il ritmo la pulsazione del reale che appunto precede anche ogni dimensione diciamo di essere statico e di tempo cronometrico noi cronometriamo sempre dove c'è tempo c'è sempre qualche misura una cronografia una scrittura ma prima del tempo c'è un ritmo una ritmicità che è la pulsazione forse del cuore della mamma quando siamo dei feti forse del respiro il ritmo precede il tempo perché è incarnato e la trasformazione del soggetto che quindi è corpo e psiche corpo mente insieme se la psiche si trasforma davvero si trasforma perché sente di essere come dire l'interiorizzarsi del corpo e sente che il corpo è il suo esteriorizzarsi anche questo è un movimento di respirazione io non coincido totalmente con il mio corpo perché posso anche perdere un arto e resto in qualche misura una identità io posso avere momenti in cui il mio corpo non mi risponde posso avere momenti in cui il mio corpo è particolarmente sano e allenato però non decoincido mai neanche totalmente dal mio corpo posso immaginare uno spirito disincarnato ma lo faccio sempre sulla base della mia corporità della mia sensorialità è sempre come dire per una analogia che io mi immagino una vita totalmente spirituale o degli esseri diciamo incorporei allora devo imparare a riconoscere la dimensione processuale del reale a vedere come il reale è sempre in movimento nella nella sua dimensione dinamica per evitare una fissazione della psiche in un io egoico egocentrico autocentrato anche in Freud c'è questa consapevolezza di una psiche estesa diciamo la psiche estesa non ne sa nulla però e noi spesso in questo non saperne nulla dell'estensione della nostra psiche ci dimentichiamo di muoverci con essa di muoverci con il corpo di ascoltare anche il corpo perché la psiche si sviluppa continuamente tra ecco il tra di cui parlavo prima ningen tra esseri umani la psiche si sviluppa tra io e mondo ma non perché appunto io e mondo siano due entità finite perché questo tra è esattamente la relazione che li co-istituisce la nostra psiche dicevo non abita nel mondo ma abita il mondo lo plasma contribuisce a plasmarlo e ne è a sua volta plasmata allora qui chiudo con due due annotazioni due possibilità se vogliamo che vengono date anche qui faccio faccio riferimento ancora una volta poi basta a meno che non mi vengano in mente altre cose durante la discussione al mondo sino giapponese perché ho evocato la nozione di corpo mente di shinjin ho evocato dogen che appunto dice lasciar cadere depositare vuol dire anche un lasciar sedimentare decantare non alimentare il vorticoso movimento che si fissa ogni volta su qualcosa ma ogni volta su qualcosa di diverso e quindi continua a correre da un altro e da un altro altrove la proposta diciamo asiatica la troviamo in India in Tibet in Cina in Corea in Giappone è quella della meditazione che non è la riflessione insistita su un oggetto del pensiero nella tradizione asiatica mentre in occidente più spesso noi la intendiamo così anche qua usiamo sempre il povero Descartes come esempio ex negativo meditazioni metafisiche di Cartesio sono sei riflessioni filosofiche su alcuni problemi ontologici esistenziali ma la meditazione nel mondo asiatico è invece piuttosto un lasciare decantare il pensiero anche qua non inibirlo non scacciarlo diventa una nuova forma di fissazione ma è una meditazione senza oggetto e meditazio in latino deriva da un verbo meditor che è l'iterativo di medeo che vuol dire curo per cui la meditazione nasce come esperienza diciamo terapeutica di cura in cui però la cura diventa una forma di igiene la igiesis in greco nella tradizione epocratica era quella forma di cura che il corpo riesce ad esercitare da solo spontaneamente con una buona alimentazione con un buon regime di pulizia a differenza della iatreia che è la cura appunto da cui nostra geriatria la cura come tecne la medicazione la disciplina medica l'arte medica meditor è una sorta di iterativo di curo mi curo mi prendo cura e la meditazione è anche un modo per imparare a gestire gli stati mentali per evitare che un eccesso di stimolazione procure angoscia è quello che molti oggi vivono anche molti giovani sono bombardati di stimoli allora la reazione rispetto al bombardamento di stimolazioni sensoriali o è l'angoscia oppure un altro tipo di risposta è l'abbassamento della soglia nel caos io decido di trovare sempre meno sensazioni come dire il rischio di andare verso l'apatia ma perché è la mia forma di sopravvivenza devo chiudere come dire i pertugi le soglie le aperture da cui entrano gli stimoli perché non riesco a reggerli allora la trasformazione della psiche che a questo punto abbiamo capito è in realtà un corpo-mente è un complesso divenire una trasformazione continua avviene attraverso l'uso consapevole del respiro quindi una dimensione una funzione fisiologica che produce effetti a livello psichico intracorporeo ma la trasformazione psichica si riflette nella nostra capacità di muoverci nel mondo e questo respiro è quello che appunto viene in qualche modo anche evocato da ultima citazione giapponese dal monaco Dogen che citavo prima che viene visitato da un discepolo il monaco il maestro si sta sventolando fa caldo in Giappone in estate c'è un'umidità pazzesca e anche i maestri zen agitano il ventaglio e il il discepolo gli dice maestro ma tu mi hai insegnato che il vento soffia senza limiti e raggiunge ogni luogo perché allora agiti il ventaglio come dire se tutto è da sempre immacolato e contaminato come dice il buddismo cioè la pratica in realtà serve solo risvegliare qualcosa che c'è già la trasformazione vera è un levare la polvere e la cenere dalle bracci ardenti perché appunto tu muovi il ventaglio e il maestro dice tu sei solo hai solo capito che il vento soffia senza limiti non hai ancora capito perché giunge in ogni dove perché tocca ogni luogo tocca ogni contingenza e il discepolo dice è vero allora spiegamelo in che modo il vento che soffia senza limiti tocca ogni dove e il maestro ricomincia a muovere il ventaglio che è come dire in un linguaggio diverso tu sai che Dio ha già salvato Dio è providente come fai a dire allora che quel bambino che sta morendo di sete viene salvato perché sei tu che vai a salvarlo perché sei tu che dai da bere l'assettato sei tu che ti inclini clinica è un'inclinazione quindi vuol dire proprio cambi prospettiva non vai avanti dritto forte delle tue credenze delle tue idolatrie ti inclini verso quella persona sofferente e cerchi in quel momento in quel contesto di fare ciò che è in tuo potere nel tuo limite nella tua contingenza per guardare sguardo per guardare negli occhi quell'essere umano ecco io mi fermerai qua spero di avere rispettato i tempi così abbiamo un po' di tempo per la discussione grazie delle cose che ci hai detto io vengo sempre presa da momenti di entusiasmo perché mentre parlavi pensavo ecco a che cosa serve alla psicologia poi noi diciamo ad essere fenomenologi nel fare psicologia quindi a maggior ragione per noi ecco a che cosa serve alla psicologia la filosofia e a che cosa serve anche il contatto con pensieri diversi io poi sarebbe troppo lungo ma insomma tutta la vita mi sono arrabbiata con una psicologia che è stata toccata dal virus dello scientismo positivista ottocentesco se vuoi che ancora in gran parte impronta la forma mentis degli psicologi questa voglia di definire io mi sono formata vedendo una serie di tabelle di schemi di distinzioni no questa voglia di definire che è la meno etica tendenza che possa esistere tu l'hai detto molto bene no voler conoscere una persona è togliergli l'alterità volerla definire comprendere fino in fondo e specialmente in psicologia clinica in quest'ultimo in quest'ultima citazione ce l'hai detto molto bene che cosa si deve fare no cioè muovere il ventaglio come puoi senza sapere già dove vai a parare quanto vento muoverai se funzionerà no e quindi per gli psicologi è tanto difficile abbandonare quel comprensibilissimo desiderio di sapere di definire la psiche comprensibile perché più hai a che fare con una cosa sfuggente più hai voglia ad afferrarla no però come si fa ecco ti chiedo anche un consiglio io evidentemente non ci sono riuscita se non con due o tre persone in tutta la mia carriera a togliere questa smania di definizione perché io credo che sia anche una questione etica come tu hai sottolineato di definizione di afferramento di eh volontà di sapere che è anche volontà di potere no e vivere in questa ambiguità che come come diceva Merleau-Ponty non è questa non coincidenza questa eccedenza continua questo lusso questo movimento questo accadere continuo che non ti dà sicurezza evidentemente no e che però come diceva Merleau-Ponty non è un'imperfezione della coscienza o dell'esistenza ma ne è la definizione è la sua natura siamo fatti così ecco come si fa a far vedere che siamo fatti così e che quindi una psicologia che voglia essere tale interessarsi di questo vento che soffia eh possa cioè che la psicologia possa accettare ecco questa questo essere fatti così e muoversi in questa direzione perché è tutta la vita che ci provo e non ci sono riusciti eh temo di una risposta anch'io ci sto chiedo un aiuto per chi viene dopo io ormai ma allora io potrei provare a non dico a rispondere ma insomma a sviluppare la questione partendo dalle mie esperienze cioè cos'è che mi ha toccato cos'è che mi ha mostrato questo tipo di di interesse fondamentalmente degli esempi concreti degli esempi incarnati cioè degli esseri umani che nei loro limiti ma all'interno delle loro professioni le più disparate adesso appunto sarebbe troppo facile evocare i nomi dei miei maestri nella filosofia ma potrei parlare anche di altri esempi che con la loro vita con la loro con la loro prassi mi hanno mostrato degli esempi concreti di un modo di vita che non fosse appunto ridotto né riducibile a quel tipo di quantificazione mortificante di di numerazione che in alcuni ambiti è formidabile funziona è giusto usare ma che appunto in altri ambiti invece rischia di essere fuorviante il grande problema qual è? Allora da un lato c'è e qua forse non voglio essere come dire diventare io determinista ma è anche vero che ci sono delle forme di apertura di siamo tutti nel circolo ermeneutico c'è qualcuno che ha già una predisposizione come quando a me chiedono ma che che belle le cose che fai ma sei sempre stato così o sei diventato studiando le cose e dico ma questa è una domanda a cui è impossibile rispondere perché c'è una circolarità per cui tu sei già da un certo punto di vista naturalmente disposto ad ascoltare qualcosa che proprio perché l'ascolti ti trasforma o ti alimenta quella capacità quell'interesse quella qualità quindi da un certo punto di vista secondo me rimane inaggirabile il tema dell'esempio singolo e del fatto che come direbbero di nuovo ecco un'altra citazione giapponese direbbero i giapponesi i shin den shin le cose accadono si trasmettono da cuore a cuore da mente a mente ma potremmo anche dire da inconscio a inconscio da interiorità a interiorità questo shin che è sempre cuore mente spirito il problema appunto allora come riuscire a tradurre questo in un tipo di movimento che non sia sempre solo legato ai due o tre che incontriamo nell'arco di 40 anni che dicono accidenti qua è accaduto qualcosa come è stato per me adesso ancora vedo che magari c'è un accadimento un essere toccato e un toccare qualcosa lì è difficile perché tocchiamo questioni che hanno a che vedere con le prassi scientifiche ma anche con le prassi politiche con le scelte complessive adesso sarebbe un po' fuori luogo e anche un po' uno sparare sulla croce rossa ma se dovessimo iniziare a parlare delle prassi universitarie accademiche degli ultimi dieci anni cioè è già chiaro che tutto il discorso che noi stiamo facendo si muove in una direzione in un contesto che è esattamente l'opposto di quello che invece sta accadendo per il modo in cui viene valutata la ricerca in cui siamo richiesti di insegnare siamo richiesti di fare una serie di operazioni che non hanno a che vedere con queste cose allora c'è il rischio è sempre quello della pratica residuale o quella che io chiamo la parte della domenica uno fa un mestiere che ancora ci si ostina a chiamare professore universitario psicologo filosofo terapeuta ma poi di fatto deve fare tutt'altro per ritagliarsi quella parte minima quella quota di tempo quello che sarebbe detto appunto il tempo extra lavorativo per approfondire per entrare in unità integra intatta con quel nucleo essenziale quindi anche la formazione per esempio leggere i libri che scrivi tu ma non è piageria o il complimento ma potrebbe essere molto utile a chi è stato tirato su leggendo solo i libri degli americani e delle definizioni quelli che guariscono il lutto in sette giorni e no sì a me quello che è affascinato della fenomenologia quando ero molto giovane e che era un linguaggio ossimorico e questo mi piaceva tanto come dici tu forse c'è non so il problema mente-corpo ho notato anch'io che noi dobbiamo mettere la lineetta psicosomatico e non abbiamo una parola per dire questa ambigua unità no e allora Husserl o Merleau-Punty o poi Varela più tardi che dicevano unità duale dualità unitaria ti gira la testa però senti che coincide con quello che senti che vivi nell'esperienza no quindi che non c'è un'unità una coincidenza assoluta ma c'è questo continuo scarto che però è unità quello che tu hai detto il mare vabbè ti dico mi viene questo entusiasmo perché come puoi capire ho vissuto tutta la vita in un ambiente in cui queste cose erano neanche nominabili no neanche nominabili ho continuato a farlo ma insomma può scarsi i risultati però vedi magari già il fatto di aver mostrato una differenza adesso non voglio insomma dare l'impressione di essere come dire accontentarmi di poco perché non credo sia poco però il grande finale delle città invisibili di Italo Calvino secondo me resta come dire da scolpire le tre capitali cioè io vedo la città di oggi io vedo il mondo di oggi vedo l'inferno però che cosa posso fare per non soccombere o divento anch'io parte di esso oppure cerco di cogliere ciò che non è inferno e di dargli spazio di dargli tempo e lì qualcosa comunque accade anche se magari non è l'incendio che divrampa e che trasforma tutto ma sono quelle piccole forme di prassi quei quattro quelle cinque allieve che incontriamo quei tre maestri quei compagni di viaggio con cui comunque si tesse un rapporto comunque si costruisce una rete e talvolta anche come dire in pochi compagni di viaggio si riesce a fare un bel po' di strada e a far sì che in qualche misura si possa fare spazio per questa dimensione agitiamo il ventaglio sì bene lascio lo spazio alle persone che avranno voglia di chiedere scusate ma è così raro ecco volevo chiedere a Marcello Ilardi quando ha fatto l'esempio della strada per andare a Roma che ha chiesto dipende da che parte dipende dalla tua posizione per sapere dove vuoi arrivare in sostanza questa è una domanda mi pare che la scienza possa rispondere benissimo nel senso che è proprio la distanza che ci separa dal nostro obiettivo che la scienza sa misurare se l'obiettivo è esterno cioè tu sei in qualche altro posto rispetto a Roma ma qui non si tratta invece di definire un obiettivo che è interno e quindi in un certo senso togliersi dalla relativizzazione di questa distanza e trovare un assoluto nel senso che se ciascuno deve puntare al proprio interno in qualche modo ogni relativizzazione va a cadere e forse è proprio questo che è difficile portar fuori no come dire il Tao che ci spiega il dinamismo del divenire e una in questa pulsazione senza fine è come dire c'è un terzo un assoluto prima del Tao prima che diventi un dialogo c'è un punto in cui c'è un silenzio forse ma che ci fa trascendere da questa pulsazione cosa ne pensi allora è una questione importante anche complessa ritorno sull'esempio che talvolta succede con gli esempi non è detto che sia perfettamente calzante a me avrebbe da dire la scienza ci può dire esattamente che ne so che da Milano a Roma ci sono 617 chilometri ma appunto non ci dice se e perché dobbiamo andare a Roma intanto per fare un altro esempio forse più calzante e più drammatico diciamo di tipo bioetico se una donna incinta scopre il 4 il quinto mese di avere un tumore la scienza può dire se ti vuoi curare ti possiamo salvare ma perdi il feto se vuoi portare a termine la gravidanza il feto si salva ma è troppo tardi per salvare te la scienza ci dice che cosa possiamo fare che cosa accade decidendo di fare una cosa ma non ci dice che cosa noi dobbiamo scegliere perché questo è un problema filosofico è un problema etico non è un problema scientifico allora in questo senso come dire questo esempio forse mi permette di migliorare di raffinare quello della relatività della scelta dell'andare a Roma andando a nord o a sud per indicare appunto che un conto è una prescrizione una modellizzazione un certo tipo di terapia produce un certo effetto si può più o meno prevedere un conto è la scelta esistenziale il soggetto che ho davanti tu che soggetto sei e quello è il compito che magari appunto alcuni medici riescono anche a sostenere e molti altri no perché appunto si limitano a dire io ti dico che se prendi questo farmaco succede questa cosa però decidi tu se prenderlo se non prenderlo e non mi metto neanche a discuterne con te sulla questione del Tao e dell'origine dell'assoluto allora nel mondo cinese nel mondo del pensiero taoista in realtà non c'è un vero e proprio assoluto non c'è un fondamento non c'è un archè il Tao non è il principio che sta alla base dei fenomeni è l'accadere stesso dei fenomeni potremmo dire è lo scorrere del fiume che non c'è se non c'è un alveo se non ci sono delle rive se non c'è una massa d'acqua e delle onde che scendono a valle ma se non c'è lo scorrere non c'è neanche il fiume ci sarebbe appunto un bacino inerte quindi in questo senso non c'è un assoluto che preesiste ai suoi fenomeni un po' come in Spinoza non c'è un dio una natura una sostanza che sia al di fa o indipendente dai modi del suo esprimersi e del suo attuarsi nessun modo è la natura o la sostanza come nessun fenomeno è il Tao nella sua totalità come nessun'onda è il fiume o l'oceano ma non c'è oceano senza onde non c'è Tao senza fenomeni non c'è sostanza senza modi c'è un silenzio nel pensiero cinese appunto taoista si parla di un passaggio dal UG dall'assenza di polarità in Eiyang al Taiji le polarità estreme questo silenzio se vogliamo è lo sfondo indifferenziato che diventa come dire il luogo come un campo magnetico che però si attiva appunto di nuovo sempre conoscendo le polarità ma il luogo dell'attivazione dei poli di un campo magnetico sarebbe il silenzio all'interno del quale o da cui scaturisce la vibrazione sonora però il Tao in un certo senso ricomprende questi momenti sia il silenzio sia l'inizio della melodia dell'armonia dei fenomeni la cosa secondo me importante è quando entriamo in contatto con questo tipo di tradizioni non proiettare le aspettative di senso che la tradizione occidentale ci ha un po' consegnato allora il Tao sarebbe il principio assoluto oppure Dio o la divinità o l'archè dei presocratici la difficoltà è che nel pensiero cinese non c'è il verbo nel pensiero cinese classico non c'è un verbo essere che noi possiamo sostantivare come accade in greco e anche in italiano e quindi non c'è neanche Tao vuol dire non solo via ma anche andare vuol dire anche dire e parlare ma la cosa interessante è che è un sostantivo che può anche essere verbo ma è un muovo è un procedere Tao è anche il processo che però non è un divenire che si staglia a partire da un essere non c'è un fondamento assoluto da cui emergono dei fenomeni il problema è che noi occidentali noi italiani non abbiamo neanche come dire le categorie facciamo fatica a pensare questa cosa perché per noi è appena diciamo divenire lo pensiamo in rapporto all'essere e qui c'è questa da pensare questa ciclicità questo movimento che non ha inizio che non ha fine all'interno del quale i fenomeni emergono e si immergono c'è questo emergere dallo sfondo indifferenziato e questo immergersi di nuovo nello sfondo indifferenziato al di sopra dello sfondo indifferenziato c'è il mondo dei fenomeni ci sono le puntuazioni di potenza che sono le nostre vite individuali che sono lo sbocciare in un fiore che sono l'emergere di un'idea di un pensiero e sempre però vengono poi accolte riaccolte come un lago in cui noi buttiamo delle pietre si formano le increspetture delle onde e poi di nuovo però queste onde si appianano sono sempre metafore sono sempre immagini perché appunto è difficile poi restituire concettualmente questa processualità dinamica in assenza di un essere da cui il divenire si smarca un fenomeno che non sia dipendente da un fondamento ecco forse parlare di luogo può aiutarci perché il luogo non è il fondamento ma è ciò che accoglie è come il vuoto nel buddismo per certi versi che non è da ipostatizzare facendo assurgere un nuovo principio è esattamente lo svuotarsi l'evacuarsi di ogni presunto principio che volesse irrigidirsi a questa condizione c'è trasformazione del sé a questa condizione accade quello che nel buddismo si chiama risveglio o illuminazione che non vuol dire appunto vedere una realtà completamente diversa ma sentire la qualità di processo e di relazionalità che intrama ogni fenomeno non so se ho chiarito un po' di più ho fatto confusione nel buddismo c'è una delle citazioni più famose di un sutra del cuore le forme sono vuoto e il vuoto è le forme o i fenomeni sono la vacuità la vacuità è il fenomeno i fenomeni e le forme sono vuote perché appunto sono prive di un'esistenza assoluta incondizionata ci sono ma sono sempre in relazione ad altro sono generate sono coprodotte sono determinate appunto da un limite il tavolo sotto il libro le pagine fatte di cellulosa montate da una macchina che dipendono dall'albero che dipende dall'acqua che l'ha irrigato e così via ma anche il vuoto è forma perché perché non deve diventare un principio al di là delle forme deve essere inteso riconosciuto come a sua volta forma bisognosa di essere evacuata di essere relazionata ad altro allora il vuoto fa il suo mestiere lo svuotamento la fluidificazione altrimenti c'è subito la rigidità il tentativo di trovare un nuovo scoglio a cui aggrapparsi tutte queste cose poi chiudo scusa tutte queste cose sono non dette pensate per sapere un po' meglio come il mondo è ma lo dico in maniera forse troppo banale ma per essere felici cioè qualcosa di molto più importante della descrizione del mondo è per questo dicevo una risposta etica per non sentire una vita costretta dal disagio dal malessere dal non senso dal dolore dalla sofferenza questo è questa è la proposta che proviene da quel tipo di sapienza di pensieri di tradizioni chiamiamole come vogliamo ecco era piccola chiosa per dire che appunto la finalità non è contemplativo teoretico descrittiva ma è appunto poi una prassi sì volevo fare una domanda cioè mi chiedevo la relazione tra la meditazione e il tra se nella meditazione senza oggetto naturalmente il tra è quella decoincidenza dell'io che osserva se stesso quindi resta un elemento interno non lo so era un pensiero che mi è venuto così che volevo chiedere un chiarimento giusto giusto allora direi che almeno ci sono due modi di intendere diciamo la presenza di questo tra di questa apertura da un lato sì questa sorta di auto osservazione che in qualche misura placa fa decantare non devo fissare nessun pensiero un'immagine che si utilizza è come il cielo che lascia passare le nubi e quindi io sento male va bene accade anche questo dolore al ginocchio mentre sono in meditazione ho prurito va bene accolgo questo prurito sono dimenticato di spegnere il gas va bene ma non mi fisso perché e non mi fisso neanche sull'idea di non pensare perché altrimenti questa diventa una nuova fissazione quindi c'è questa apertura di venire sì questo tra l'io e il me e quindi c'è una apertura però la cosa è sicuramente interessante che almeno nello zen che è la tradizione che conosco meglio non parlo nome di tutte le tradizioni però in quell'esperienza in quella pratica meditativa in cui io fondamentalmente posso dire di essere solo con me stesso non c'è un rivolgersi a un tu come nella preghiera cristiana io sono contemporaneamente solo e in comunione in comunità con tutti quegli altri che meditano perché nei tempi si medita in comune ma anche quando io medito da solo è come se questa capacità di lasciare andare il tra è anche quello del respiro è anche quello della svolta del respiro ogni volta che inspiro espiro prendo rilascio c'è anche qui questo tra un respiro e l'altro un istante io dovrei ecco un po' se vogliamo è una scommessa è una posta in gioco piano piano sentirmi intramato di mondo e quindi sono da solo e contemporaneamente con tutti gli altri di nuovo anche questa è un'espressione ossimorica al massimo la mia solitudine io scopro la mia massima vicinanza una comunione una massima comunione dove il tu diventa però una rappresentazione del tu perché il tu reale non c'è in quel momento allora il tu reale giusto anche questo diciamo che nel momento in cui medito non dovrebbe esserci nessuna rappresentazione che cosa diciamo mi fa capire che la mia pratica meditativa è una buona pratica non è una fantasmagoria una illusione il modo in cui vivo tutto il resto del tempo tanto che come dicono poi tutti i maestri finché io credo che la meditazione sia una tecnica che sta a parte rispetto alla vita non ho ancora capito niente certo perché la vera prassi meditativa è quella che io poi faccio quando vado a nel quotidiano eh sì sono un os e vado a pulire i sederi dei degli novantenni dell'IPAB della casa di pura lì si vede se la meditazione funziona lì c'è il tu e lì c'è si vede se c'è la trasformazione di nuovo per usare un altro tipo di tradizione ma non per buttarla sempre solo sul teologico ma quando madre Teresa di Calcutta le chiedevano come fai a stare qua in mezzo alle brose diciamo ma sono mica io che lo faccio se fossi io ce l'avrei mai fatta a stare in mezzo a questi miasmi a queste fogne di Calcutta chiaramente lì c'è il rapporto con una presenza divina ma un un monaco buddista probabilmente direbbe è la natura di Buddha che agisce attraverso questo corpo e questa mente e e in questo modo c'è un incontro di io e tu grazie posso chiedere grazie è un'osservazione che vuole essere anche chiaramente una domanda un tuo punto di vista volevo ritornare sul rapporto tra linguaggio e sguardo fenomenologico perché nel nostro lavoro mi sembra che sia lavoro di psicologi psichiatri psicoterapeuti sia estremamente centrale allora se noi rimaniamo costantemente adesi al nostro linguaggio se noi siamo il linguaggio che ereditiamo allora non è che il linguaggio in qualche modo si ponga da ostacolo allo sguardo fenomenologico se sguardo fenomenologico significa ritrovare continuamente il significato delle cose per ricominciare sempre a guardarle in un qualche modo per la prima volta ma anche per nominarle per la prima volta allora a me sembra che uno dei problemi centrali del nostro lavoro sia proprio quello come liberarci da un linguaggio che tende a nominare classificare e a imprigionare e allora a me sembra che lo sguardo fenomenologico abbia a che fare non solo evidentemente con la vista o visione ma anche con i sensi in un qualche modo con il corpo con una corporeità che incontra la corporeità dell'altro e mi sta venendo in mente che nel lavoro con i pazienti gravi mi tornava molto all'esempio del termostato perché in un qualche modo se vogliamo abitare in un qualche modo la distanza tra noi e il paziente in un modo tale che possiamo se le cose ci vanno se va bene a incontrarlo allora dobbiamo acquisire ben prima di un linguaggio una sorta di sensibilità intelligenza cenestesica di una capacità di una regolazione tra il caldo e il freddo che viene ben prima dal linguaggio allora io penso che lo sguardo fenomenologico sia questo e che ci permetta poi di riappropriarci di un linguaggio che non può più essere un linguaggio solo nostro ma di un linguaggio che nasce in una relazione dove il silenzio probabilmente una sorta di poetica del silenzio viene prima del linguaggio e in questo mi viene in mente qualche esempio di chi mi ha insegnato questo lavoro c'è anche tutto un aspetto etico perché il silenzio può essere profondamente rispettoso ed etico nella sua portata nei confronti della grave sofferenza mentale non so cosa ne pensi ma sono molto d'accordo e non aggiungerei nulla mi viene in mente una citazione di Merleau-Ponty dal visibile in invisibile dice il filosofo parla ma ha una sua debolezza in realtà in realtà dovrebbe forse o vorrebbe coincidere in silenzio con l'essere però al tempo stesso il filosofo vuole anche dire vuole anche tradurre dal silenzio per rendere conto l'ogon di Donai e qui a proposito del rispetto del silenzio mi viene in mente anche un'altra cosa quando David Maria Turoldo stava morendo aveva gli ultimi mesi aveva un tumore come sacerdote comunque in qualche modo gli chiedevano di rendere conto di parlare di Dio e cosa dice Dio del dolore e lui dice non l'avrei mai pensato quando ero giovane e forte ma adesso dico talvolta probabilmente Dio per come lo posso pensare io ha talmente rispetto del dolore umano che talvolta sta solo zitto quindi il logos che si ammutolisce è narchè è no logos in principio era il logos ma non il principio era il logos forse prima del logos c'è il silenzio e mi comincia molto questa cosa che dicevi appunto di una generazione di un linguaggio che in quel momento in quel rapporto accade altrimenti rischiamo sempre di dire frasi fatte per così dire di riportare una serie di formule mentre mentre in questo senso c'è appunto una poetica anche come dicevi nel senso che così come la poesia ai suoi livelli più alti è anche generazione di un linguaggio nuovo inedito inaudito anche ogni incontro autentico di esseri umani di soggetti genera un nuovo linguaggio questo se vogliamo è praticamente evidente negli innamorati che iniziano ad avere un loro lessico a chiamarsi in un modo che conoscono solo loro e è quello che succede ai bambini piccoli appunto adesso ho una figlia di tre anni e mezzo che impara a dire delle parole a mettere insieme delle parole e si vede proprio la genesi di un ideoletto suo questo è quello che sarebbe da fare ogni volta perché ogni volta c'è un soggetto diverso e io posso sentire giustamente di appartenere ad una tradizione che è un suo lessico che è una sua serie di categorie ma se non riesco a errorarle di nuovo senso ogni volta che io sono di fronte ad una persona allora non c'è esperienza di sguardo non c'è esperienza di incontro e solo attraverso appunto un silenzio che quindi implica un ascolto una capacità di ascolto c'è un mettersi in fase un sintonizzarsi reciproco solo un'aggiunta di un pensiero a quello che state dicendo mi facevate venire in mente proprio il ritmo che c'è nel linguaggio che c'è nella musica che c'è nel respiro perché nel respiro sì c'è l'inspiro ma c'è anche la sospensione non lo so mi era venuta in mente solo questa cosa che che tutto giri intorno alla sospensione cioè a questa assenza in quel momento che è quella che poi dà il ritmo se fosse come dire adesso dico delle cose un po' confuse un linguaggio continuo mancherebbe di quel ritmo che è l'elemento poi vitale non so ecco sì una delle poesie più importanti più famose di un poeta di origine rumena che scrive in tedesco Paul Celan o come dicono i francesi Paul Celan visto che ha vissuto a Parigi morto suicida nel nel 70 ebreo genitori morti in campo di concentramento si intitola in tedesco Atem vende svolta di respiro vende appunto il rovesciarsi dall'inspirazione all'ispirazione e viceversa quella sospensione anche minima che implica però il movimento poetico non c'è continuità assoluta ma c'è ritmo ritmicità e talvolta il respiro è affannoso talvolta è ampio disteso e piano talvolta è potente talvolta è esile e flebile però appunto in questa svolta di respiro Paul Celan trova se vogliamo come dire la nota di fondo del poetico e il ritmo appunto la poesia è fatta di ritmo appunto come la musica solo per agganciarmi scusate Franco Basaglia penso che abbia scritto uno dei suoi o molti dicono nel suo più bel saggio che è corpo sguardo e silenzio dove è un saggio dove lui pone la centralità della pausa esatto ed è un saggio straordinario è proprio vero è solo nella pausa che noi possiamo evitare ecco uno sguardo o una parola giudicante e quindi la pausa è trovare la giusta distanza giusta distanza non solo tra noi e il paziente ma tra noi e noi stessi e la parola che tenderebbe ad emergere a uno sguardo reificante perché anche la parola veramente può essere reificante quello è un saggio straordinario bene io ammetto che sono preoccupata del fatto che devi fare una conferenza stasera dopo quattro ore di lezione e questa fatica e questa fatica che hai fatto con noi quindi no ma ti ringrazio ma ci si alimenta come le dinamo quando si parla di cose belle che ci nutrono no immagino che molti di noi andrebbero avanti un po' ma vado a rifocillarmi rapidamente prima di parlare bevi qualche bicchiere d'acqua sì ti ringraziamo veramente tanto perché grazie a voi solo ho sfiorato il tema della cura ma invece l'hai centrato pienamente ci hai mostrato come non ci possa essere cura se non in questo atteggiamento che poi ognuno fa quello che può cioè l'atteggiamento che ci hai indicato grazie anche a tutti questi tuoi riferimenti di altre culture è l'atteggiamento più adatto a stare vicino a un'altra persona stare con l'altro per creare questa zona e Leonardo l'ha detto molto bene a partire dall'esperienza si capiva che non era un discorso va bene ti ringraziamo tanto grazie ancora a voi